In più per festeggiare l'8 marzo, la festa delle donne, a sfidare la crisi nel 2012 sono state bene 103.391 imprese rosa che hanno fatto salire il numero complessivo di imprese al femminile in Italia a 1.424.743. Nel tessuto economico nazionale oggi quasi un'impresa su quattro è condotta da donne, 23,5% e quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione della festa della donna dell'8 marzo condotta sulla base dei dati di Union Camere. La maggioranza delle imprese femminili opera nel commercio, circa il 30%, ma una forte presenza si registra con oltre il 16% in agricoltura, nei servizi di alloggio e ristorazione, quasi il 10% e nel manifatturiero l'8%. L'incremento rappresenta un dato positivo, anche se evidenzia ancora, sottolinea la Coldiretti, le difficoltà del sistema Italia a garantire pari opportunità all'universo femminile. Quello che appare invece evidente è invece il rilevante contributo qualitativo che le donne imprenditrici hanno apportato al rilancio del sistema economico nazionale in termini di innovazione e creatività. In agricoltura, dove la presenza femminile è superiore alla media con quasi un'impresa agricola su tre, il 29%, condotta dalle donne, la capacità di coniugare la sfida con il mercato, il rispetto dell'ambiente, la qualità della vita a contatto con la natura, sembra essere una delle principali ragioni della presenza femminile nelle campagne. Un impegno che è preciso la Coldiretti è infatti particolarmente rilevante nelle attività più innovative e multifunzionali, come dimostra il protagonismo delle donne nei mercati degli agricoltori di campagna amica, negli agriturismi e nelle associazioni per la valorizzazione di prodotti tipici nazionali come il vino e l'olio.